Ed eccoci qua, come ti chiami? Fabio. E poi? Fabio Paraci. Sei pronto? Sì, bravo. Adesso andiamo tu a divertirci, io sono il tuo video. Quando ti vengo davanti in cauta libera salutami, mandami baci, non ti stare fermo, mi raccomando. Certo, hai capitato un pilota che non è il massimo, però questo capitò. Le belle ragazze le lasciamo qua. Grande Fabio! Amorini, sei pronto? Prontissimo. Amorini, sei pronto? Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.